Ciao ragazzi qui è Name of Pro, ci siamo nel secondo episodio della campagna di PES 2018 Mobile Andiamo subito a raccogliere il premio giornaliero, oggi era l'ultima giornata quindi bonus accesso di 100 monete E siamo a 10 di differenza per aprirne uno, solo che ora c'è obiettivi, speriamo che non sia quello da 500 Ok è quello da 10, ora ne abbiamo giusti 250, andiamo subito a bollettare lì, a bollettare, vabbè Facciamo giocatori speciali, box, best e vai Oh tutti argento Si oro, eh si oro, nero nero Robin, abbiamo trovato Robin, grazie Claudia, Robin, Robin, abbiamo trovato Robin, mi hai pure fatto venire un colpo Oh madonna, Robin, no lo mettiamo subito Oh mio dio, ho trovato Robin, yeah Vabbè andiamo subito sulla mia squadra Sede club, sede club e c'è anche un obiettivo, c'è anche un obiettivo completato Vediamo qual è, vediamo qual è, rarità nero, nero e abbiamo anche 10 monete, my club in più Vabbè andiamo sulla mia squadra, no, gestione squadra Mamma mia Robben, Eda, no spera Lo mettiamo con quello più scarso, qui Anche se non è del coso, però vabbè, si è 22, non me ne frega niente E un altro obiettivo abbiamo fatto, fi Obiettivi completati, 70, 70 obiettivi completati E un altro, mamma mia Dovemo Forza della squadra, 1200 Indietro, avremo già perso un casino di tempo, infatti due minuti Ora andiamo in campagna, mi sono portato un po' avanti per fare spacchettamenti, però non ho trovato nulla Ora sono a livello campagna 3, mi dispiace, siamo alla giornata 4, sconfitte 2, vittorie 1 Cioè, ho fatto proprio schifo Fa niente, se no, non ne sono slot disponibile Siamo contro Unluck Iniziamo, intanto qui c'è il mio bel Robben Aspetta, vediamo se c'è un Mad più più forte No Mi Robben, io Ti adoro, basta, ti adoro Ti adoro, basta Stiamo per iniziare la partita Contro Unluck Con lo stema del Barcellona E anche la divisa Tre, ah, e palla loro Coutinho Per Freight Ah, non ho visto la sua squadra Sidruc Nunez la prende Per Marco Salonso La prende Marco Salonso Fai schifo Marco Salonso No, non fai schifo Perché mi hai regalato Un fallo Cartellino Cartellino Madonez è contento Finta Marco Salonso Oh no, fine primo tempo Ah, stanotte ho sognato di essere in un ristorante Dove il capo era CiccioGamer89 Speriamo che CiccioGamer89 guardi questo video E ciao Paco al saccares per Castledin Castledin cross per Paco al saccares La mia tattica La mia tattica bellissima Paco al saccares La mia tattica funziona 1-0 Paco al saccares La mia tattica funziona sempre Vabbè, siamo con Freitas Goff Per Durm Ma la prende Shanunde col culo Rulli Rulli per San Jose Castledin fa schifo Bravissimo Alexis E bravissimo Durm Per Sidruc Castledin mio E la perde No, esci Rulli Bravissimo Anzi, bravissimo io che l'ho fatto uscire Castledin Mamma mia, ti odio Castledin Non ti userò mai più Brutto pezzo di cacca Marco Salonso Viene trafitto Por... Freitas Perde palla per San Jose Castledin Castledin Allunga malissimo la palla Non bene, malissimo La palla per Paco al saccares Castledin Dai Oggi stai facendo proprio schifo Ma hai fatto fare sempre gol Oggi fai schifo Anche te Paco al saccares Anche se hai fatto gol Di solito ne facevi tre o due Lucas Lima Dai Via... 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 Madonna, non so più parlare Bacce E fine partita Abbiamo vinto A che punto siamo? Siamo al 12 minuti? Paco al saccares Facciamo la stessa cosa di prima Ma... Mamma mia Bravissimo Bravissimo Oh madonna E funziona Paco al saccares Tiro tutto con quello che ho detto Mamma mia Subito 1-0 Per Baum... Eh? Che nome aveva? Baumgartlwellen Ah, sotto qui c'è Mario Gozze Però lo sai che Marco Salonzo Prende tutto E c'è ancora Mario Gozze Markovic Bravissimo Arribas fai schifo Casseldin Per San Jose Ancora per Casseldin Bellissimo il cross alto che fa La prende Miracolo Per Paco al saccares Che neanche E su... N-n-n-n-n Casseldin Perché non la stoppi Poi tiri Ah Esci No 1-1 Paris Saint Germain Contro Paris Saint Germain Paco al saccares Saccares Ma se hai baciato la mia maglia Stupido coglione Vabbè Tentiamo la stessa cosa E io ti spacco Ma io ti spacco Di botte Per Mario Gozze Per Carami 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 Devo stare tranquillo Se no Questi qui vanno in vantaggio Mario Gozze Mario Gozze bravissimo Lucas Lima Per Casseldin Perché non mi fai finire l'azione Brutto pezzo di cacca Britos Per colui che ha il cognome Più lungo al mondo Per Drinkwater Ma una domanda Drinkwater Quando andavi a scuola Non ti prendevano in giro? Cioè tipo You Drinkwater Cioè Vabbè Drinkwater si stava alterando E stava cercando di far gol Però io Non gliel'ho fatto fare Per Alzacar Per Markovic Per Bangle Gartiller Olivares Lorenzo Insigne Mamma mia Mario Gozze Il tiro No Madonna E questo E questo Il carno Visto che prima L'avevo vinta 1 a 0 E stavo rischiando Ora ho rischiato di più Perdendo 2 a 1 No Perché a lui? Vabbè Oh Robbeni Questa partita Non si è fatto Poppo Vedi Robbeni Il tiro per Marko Salonzo Durma La passa per Cassel Dim cosa? Ma dai Ma non era fallo Cioè Ha toccato lui Ma cosa? Ma io ti spacco di botte Sembri Podoski Quando Ha Ha preso in giro Il Cosa del Borussia Dortmund Lorenzo Insigne Olivares Robben La prende per Durma Ancora per Robben Robben Bravissimo Robben Che corde sulla fascia Ancora Filtra per Durm Perché lì Madonna Durm Ti spaccherai di botte Per Marko Salonzo Io ti spacco Livello batteria 15% Perché mi hai distratto Brutto Pezzo di cacca Forse la dovevo stoppare Olala Entra in gioco E va via Lorenzo Insigne Drinkwater Per Mario Gozze Paco Alsacher Karami E messo laterale Lucas Lima Perché a lui Casseldin fa schifo Per Marco Salonzo Ancora per Casseldin Per Paco Alsacher Parco Alsacher Care Bravissimo Che l'hai passata Marco Salonzo Bravissimo Sììììììììììììììì embaixo Abbiamo Daddy Di Paco Alsacher Ai Ma Mi I i Mi stava cadendo Il telefono Guarda Marco Salonzo Filtra Per Paco Che segna Con una semplicità Micidiale Colui che ha il nome più lungo al mondo Per Britos Per Markovic Per Karami No lo script non deve accadere Quindi io la basso subito via Marco Salonso Perché Perché non pressa Oh è finita 2 a 2 Meno male Minuti siamo 23 minuti Io direi che per questo vi è tutto Iscrivetevi Lasciate commento Arriviamo a 5 like per un prossimo episodio Attivate la campanella La campanella della notifiche Per non perdere nessun video Se non l'avete ancora fatto Noi ci vediamo in un prossimo video